Amate, fate il bene, benedite e pregate questi quattro imperativi che il Papa ha consegnato ai nuovi cardinali 17 in tutto di cui 13 elettori e 4 ultraottantenni durante il concistoro ordinario pubblico. In particolare ai porporati, molti dei quali provengono da paesi lontani, periferie segnate dall'odio e dalla guerra, Francesco ha chiesto di amare i propri nemici, secondo l'insegnamento di Gesù e imitando l'amore di Dio Padre, vera esigenza di conversione per il cuore dell'uomo che invece tende a giudicare, dividere, innalzare muri e condannare. E questo tipo di amore, ha affermato il Papa, è ancora più urgente nelle nostre società che usano l'esclusione e la polarizzazione come unico modo per risolvere conflitti. Ecco allora che un migrante, un rifugiato, uno straniero o chi ha una fede diversa dalla nostra, diventano minaccia e si diffonde il virus dell'inimicizia che va contro e ferisce anche l'universalità della Chiesa. Poco a poco le differenze si trasformano in sintomi di ostilità, minaccia e violenza. Quante ferite si allargano a causa di questa epidemia di inimicizia e di violenza, che si imprime nella carne di molti che non hanno voce perché il loro grido si è indibollito e ridotto al silenzio a causa di questa patologia dell'indifferenza. Quante situazioni di precarietà e di sofferenza si semina attraverso questa crescita di inimicizia tra i popoli, tra di noi. Sì, tra di noi, dentro le nostre comunità, i nostri presviteri, le nostre riunioni. Il virus della polarizzazione e dell'inimicizia permea i nostri modi di pensare, di sentire e di agire. Ai porporati che oggi hanno ricevuto la berretta rossa, simbolo di disponibilità a versare il sangue per l'incremento della fede cristiana, il Papa ha chiesto ancora di spendere la vita sostenendo la speranza della gente e di aprire gli occhi per guardare le ferite di quanti vivono privati della dignità. Siate capaci, ha concluso il pontefice, di perdono e di riconciliazione, siate misericordiosi come il Padre, ricordando che il cammino verso il cielo inizia dalla pianura, dove spesso abitano moltitudini tormentate.